Ancora lavoratori agricoli sottoposti a lavoro estenuante e sottopagati. Quattro persone sono state arrestate in Veneto. Associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, il reato ipotizzato. L'operazione è stata eseguita dal Nucleo dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Venezia, supportato dal Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia e dalle compagnie di Rovigo e Abano Terme. Le indagini hanno evidenziato che 13 persone venivano pagate 3 euro all'ora per 11 ore di lavoro nelle vigne a potare le piante e raccogliere l'uva. L'ennesima vicenda di caporalato in Veneto è fortunatamente smantellata dalle forze dell'ordine. A capo dello sfruttamento i quattro arrestati di nazionalità marocchina. Le indagini hanno accertato che i migranti che venivano impiegati nei vigneti, alcuni dei quali senza permesso di soggiorno lavoravano senza alcun tipo di dispositivo di protezione individuale, senza nessuna protezione assicurativa o previdenziale. Di fatto fantasmi a servizio della produzione vinicola locale.